Nella notte, intorno alle 3.30, in via Francesco Goya Gela, sei auto sono andate a fuoco. Nell'incendio sono rimaste coinvolte una Dacia Sandero e una Fiat Panda di proprietà di un pensionato settantenne, una Citroen Nemo e una Fiat Panda di un trentottenne disoccupato e la Ford Fiesta e la Jeep Renegade di due casalinghe. Quest'ultimi due mezzi sono stati solo parzialmente danneggiati dalle fiamme. Sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato. A seguito del sopralluogo sarebbe emersa la natura dolosa dell'incendio. Non è ancora chiara la dinamica. Secondo una prima ipotesi, l'attentato incendiario potrebbe essere stato indirizzato verso un nucleo familiare.